Gennaro Volpe, centrocampista dell'Intella, le sue impressioni su questo match che ha visto la vittoria della Virtus.entella? Diciamo che abbiamo fatto un gran primo tempo, dove siamo andati in vantaggio credo anche meritatamente. Nel secondo tempo sicuramente la Ternana ha spinto, anche grazie al cambio di modulo, ci ha messo in difficoltà, soprattutto sulle palle alte, dove indubbiamente ci davano più centimetri, avevano molta più fisicità, però credo che alla fine la vittoria sia meritata, siamo contenti. E' una settimana particolare per noi, per la scomparsa del papà del nostro allenatore, abbiamo vissuto una settimana difficile, dimostrazione della grande reazione di un gruppo del Mondentella, che siamo una grande famiglia, dove l'aspetto umano conta più del calcio giocato, e oggi è stata la prova lampante. Immagino dunque che questa vittoria meriti una dedica speciale. Sì, sì, a fine partita ci siamo stretti tutti intorno al nostro mister, dove è scomparsa di un genitore, credo sia sempre la cosa più brutta che possa succedere a ognuno di noi. Quindi la vittoria la dediciamo veramente a lui, da parte di tutta la squadra. L'Ontella è ordinato, una squadra sicuramente capace anche di sfruttare quelle indecisioni che ci sono state nelle retrovie della Ternana. Quindi tutto sommato una squadra che sta facendo bene in quest'ultimo periodo. Tra l'altro se non sbaglio è l'ottavo risultato utile consecutivo, quindi insomma non male per una squadra neopromossa. No, no, in effetti abbiamo trovato una certa quadratura dopo aver perso malamente a Trapani. Abbiamo un po' analizzato tutti gli errori fatti, ci siamo ricompattati. Credo che alla fine il lavoro paghi, soprattutto in Salasvetta stiamo facendo molto bene. Abbiamo fatto dei sultati importanti a Bari, a Perugia. La vittoria insomma era un po' nell'aria. Guarda caso è arrivata a Terni come l'anno scorso. Quindi insomma siamo tutti contenti perché insomma alla fine dei conti era uno sconto diretto perché la classifica in questo momento dice quello. Quindi è una vittoria che direi che è molto pesante. Senti, sicuramente state diventando un po' una bestia nera qui a Liberati. Non sono stati tanti i confronti perché se non sbaglio tra quelli che in casa in trasferta soltanto tre con la Ternana, però tutti e tre a vantaggio vostro. Esatto, esatto. Peccato che non giochiamo più, almeno per quest'anno a Liberati. Insomma, siamo contenti, andiamo avanti con la nostra strada e continuiamo su questa strada perché insomma credo che sia la strada giusta. A proposito di strada, con la vittoria di oggi, insomma, mettete in cascina tre punti importanti. Sì, sì, tre punti pesantissimi, anche se obiettivamente guardare la classifica adesso sembra un po' contrarattativamente. Però insomma, la guardiamo, siamo contenti sapendo che la strada è ancora lunga. Una squadra questa che insomma si permette di poter tenere in panchina anche giocatori di grande nome, di grande importanza. Mi viene in mente quello Sforzini che l'anno scorso ci punì con il gol qui a Libero Liberati. Quindi, al di là di quella che può essere la cautela, è una bella squadra che può mirare anche in alto. No, no. Abbiamo la società, ha vestito molto, ha fatto una squadra per raggiungere una salvezza, ma almeno sulla carta tranquilla, perché insomma, oggi c'era fuori gente come Sesto, Cutolo, Sforzini, e Pektrovic, insomma, siamo in tanti. Alla fine, insomma, l'allenatore fa delle scelte. Credo che fino adesso abbia dato possibilità a tutti di giocare, di mettersi in mostra. L'importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa. Direi, vittoria della Virtus Centella, che a Terni riesce ad avere il massimo risultato con il minimo sforzo a fronte di una reazione tardiva della Ternana. Ma il minimo sforzo lo dice lei, perché io ce la faccio più. No, lei ha corso, lei ha corso. Il problema è che la Ternana ha corso di meno e con meno gritta, a nostro parere. No, diciamo che, a parte gli scherzi, abbiamo fatto la nostra partita. Quella che, insomma, una squadra che si deve salvare, deve fare soprattutto in trasferta. Siamo stati corti, stretti, e siamo ripartiti nel momento opportuno, sfruttando le poche occasioni che ci sono capitate. Quindi, insomma, alla fine conta vincere e conta buttarla dentro. Quindi altri discorsi credo che continuino relativamente. Grazie. Grazie a voi.